IRDM La radio dei successi Non l'abbandonare mai Il Residence della Musica presenta la ricetta del giorno Benvenuti nel ResidenceDellaMusica.org Questa mattina ci troviamo a casa di Mirella a Lecce E' stata così carina da invitarci a casa sua per darci una ricetta Naturalmente Mirella è una grande ascoltatrice Sta sempre nel Residence della Musica insieme a noi E io ti ringrazio Mirella Che ricetta ci fai oggi? Salve a tutti gli telespettatori Sono dei vermicelli con crema di ricotta Sesamo Menta Su crema di peperoni Ok vediamo gli ingredienti Eccoli qua Le peperoni abbiamo detto Vermicelli Vermicelli La ricotta di bufala Il sesamo L'olio Del finocchio E uno scalogno E lo scalogno Ok Procedimento Ma devo dire Che cosa sto facendo? Allora tritiamo lo scalogno finemente In maniera grossolana Mettiamo una padella sul fuoco Con un po' d'olio Abbondante olio Extravergine di oliva Ci mettiamo dentro lo scalogno E i peperoni Un pizzico di sale La fiamma deve essere vivace Una piccola manciata di finocchio E lasciamo qui Copriamo i peperoni Con un coperchio Così questa sorta di peperonata Si cucina prima Ok Intanto è messo l'acqua a bollire Giusto? Sì Per la cottura dei vermicelli Occorrono 14 minuti 14 minuti Quindi saliamo l'acqua Caliamo i vermicelli E lasciamo cuocere Ok Chi conta il tempo? 14 minuti Guarda c'è il trailer Ok Guarda come prova la nostra Mirella A girare i peperoni Buonissimo E ci vuole permettere a girare così i peperoni Posso dire nel frattempo della ricotta? Sì Allora nel frattempo facciamo sgocciolare la ricotta E La stemperiamo Con un goccio di acqua Di cottura Allora nel frattempo facciamo sgocciolare la ricotta Ok Cerchiamo di rendere cremosa la ricotta Facendo incorporare aria Montandole in questo modo Ecco se dovesse risultare grumosa Aggiungere un altro po' di acqua di cottura Proprio sciolta Proprio sciolta Sì Ok Saltiamo i peperoni Aggiungiamo un goccio d'acqua E una fogliolina di menta Tritata Ok Menta tritata Che profumo è A te è sempre piaciuto cucinare vero? A te è sempre piaciuto cucinare vero? A te è sempre piaciuto cucinare la ricotta Con tutta la loro acqua di cottura Grazie Anna Abbassiamo il fuoco E li frulliamo Dovesse essere necessario Dovessero risultare troppo secchi Quindi bisognerebbe aggiungere un po' di acqua di cottura O meglio ancora Mi spiace Anna Grazie Emulsionare Con un po' d'olio Bisogna ridurre la crema In maniera molto fine Quindi bisogna stare un po' dietro questa operazione Bisogna ridurre la crema Ok La vellutata sembra essere buona Chiedo scusa Controlliamo Perfetto Sì E' perfetto Ok Inferiamo nel caldo Grazie Ok E Togliamo la cottura della pasta Che deve essere naturalmente all'olta E' perfetto Buona sua Lontano dal fuoco Nella stessa padella dei peperoni Versare la crema di cotta Scolare Scolare la pasta Che fame Che mi stai facendo venire Io credo che con questo nuovo progetto Io ingrasserò tantissimo Finalmente Visto che sei un'azzuta E' sempre lontano dal fuoco Saltare la pasta Bellissimo Adesso facciamo con i grandi chef Ci provo Ok Adesso la pasta è ben amalgamata E si può impiattare E si può impiattare Allora Nel piatto Versare Una piccola quantità Piccola Fatto di gusto Di crema di peperoni Ma tu Mirella sei una grande chef Diciamolo La nostra Mirella è uno chef In realtà Lei ha anche studiato Per fare uno chef Vero? E' solo passione Solo passione Ci mettiamo Il sesamo E' bellissimo Una fogliolina Di mento Wow Il piatto è pronto Quindi Eccolo qua Facciamolo vedere La nostra Mirella è stata bravissima E' veramente un bellissimo piatto Sicuramente sarà Saporitissimo E noi adesso Lo assaggeremo naturalmente Io vorrei salutarvi tutti E salutare il residence della musica Tutti gli ascoltatori Grazie a te Mirella Per averci ospitato Grazie Anna Ciao Ciao a tutti E buon appetito Un'altra parola Ci devi dire Viva IRDM Viva IRDM Grazie Residenz Ciao Ciao Mirella Mirella È una caratteressa Mondiale Grazie a te Grazie a te Anna Grazie a te Anna IRDM 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 Grazie a te la musica La radio dei successi Non l'abandono Mo' No la abandonare mai Ma' Mi Urm Mi Mi Era pe Grazie a tutti